Radio Firenze Viola Tweet Viola Tweet A cura di Fiorentina1.com La voce del tifoso Viola Ancora un caloroso buongiorno a tutti i nostri ascoltatori Il Corriere dello Sport Stadio si concentra su Gaetano Castrovilli vera rivelazione di questo campionato della Fiorentina Anche se la Serie A è ferma il giocatore si è mantenuto in forma con esercizi fisici appositamente pensati dallo staff tecnico Viola per il periodo di quarantena Il momento veramente importante per il calciatore pugliese arriverà nella prossima stagione quando il ragazzo dovrà confermare di essere un giocatore di caratura europea per essere convocato dal tecnico della Nazionale Roberto Mancini in vista dell'Europeo 2021 Intanto la Fiorentina ha blindato il suo gioiello di cui non intende privarsi L'attività fisica dei calciatori Viola prosegue a casa I ragazzi di Iachini si mantengono in forma tra ciclette, corsa e palestra Sono ormai passati 20 giorni dallo stop degli allenamenti ai campini era infatti il 10 marzo quando la Fiorentina ha comunicato di fermare le attività agonistiche Per il momento è impossibile prevedere una data per la ripresa delle sedute di allenamento Per Fiorentina1.com Riccardo Barlacchi Viola Tweet Viola Tweet A cura di Fiorentina1.com La voce del tifoso Viola